Il carcere è ottenibile in Obersi Electronics per 5 dollari per persona, ma anche se vuoi usare un team come Buke Panagana e Audience Award per essere il team leader di quattro pelicoli, è un carcere sicuro che non può vendere. E' un carcere sicuro che non può vendere. E' un carcere più grande, è rotondo in Rato, edificio di Transoradio. E' un carcere più grande, ma nemmeno vi si accadeva, è un carcere più grande, è un carcere più grande. E' un carcere più grande, è l'ultimo, è l'ultimo, è l'ultimo 8. Dennis, mi ha dato un'opportunità per invitare a tutti i tuoi, che ti piace questa buona pelicola, non solamente film di San D'America, ma anche la nostra propria pelicola, di nostra propria. Sicur, sicur. Ma se dà anche per la domanda, è l'ultimo, è l'ultimo, è l'ultimo, di Stimula, non si iniestra nel locale. Perchè, è qui un'appartamento è un'appartamento, che mi ha fatto per la pelicola nel locale, in un appartamento, è un'appartamento per discutere il nostro talento. E' l'ultimo, è molto importante per guardare, con il Buoneiro, che è successo di un tempo, molto molto rapido. Perchè, mi ha invitato tutti i Buoneiro, per stimolare il tuo team di Buoneiro. se portate un team favorito vota Pepe, se non avete un team favorito vota per qualcuno del team per sovra una torta un ganatore il giorno 27 è stato un grande ganatore assolutamente cosa vuoi vedere il team per la ceremonia la ceremonia è un hobby great la comissà è stata una prestazione tremenda abbiamo un MC conosci hanno conosciuto il mondo e ora anche se sono in differenze premi in un team in soprattutto in un kuota come si per la ceremonia è stato a divizare il cammino di mette in ogni giorno si non so